Allora ciao, ben tornato a San Marco, vedo che moralmente stai bene, mi fa tanto piacere, anche se ti vedo ancora tutto infasciato. Ti imbalpottato. Triste estate, palla ce l'hai voluta. Mi sapresti dire brevemente la dinamica del stupaccio di Giretti? Niente, io sono andato verso Parese per l'autostrada a otto, a un certo punto all'imbocca della galleria. Mi sembra di sentire un botto e poi il resto non mi ricordo niente più. Ho perso il controllo del pulmon e poi mi sono ritrovato direttamente all'ospedale la bozza. Moralmente ti vedo molto bene, sono contento che stai bene, mi sia tornato. Sì, siamo così. Gli amici di San Marco ti auguro una pronta guarigione, ti auguro di tornare presto e in bene attività. Grazie, un abbraccio a tutti e ti saluti. Va bene, vi saluto e in bocca al lì. Ciao, grazie.